Questo ti dice qualcosa? Che ne pensi di questo o questo? Possono sembrare le tue posizioni normali di ogni giorno e pur sapendo che la postura ne risente e che la schiena e il collo fanno male sei così comodo che nonostante tutto continui ad adottare queste posizioni Sappiamo che non è facile ricordarsi di tenere la schiena dritta ma adesso non bisognerà più preoccuparsi di quel dolore e malessere quotidiano Abbiamo una soluzione semplice ed efficace per non dimenticartene e di conseguenza la colonna vertebrare sarà allineata perfettamente per farti sedere dritto, stare dritto e camminare dritto alleviando così quei dolori alla schiena, alle spalle e al collo una volta per tutte Ti presentiamo Comfortis Posture un comodo e leggero tutore di supporto che correggio istantaneamente il disallineamento del corpo e allevi il dolore Basta far scivolare le cinghie sulle spalle e fissare la chiusura attorno al tronco immediatamente vedrai e noterai la differenza Una cattiva postura può tradursi in un collo storto che può generare tensioni dolorose, spalle incurvate, schiena curva e persino una pancia sporgente Comfortis Posture riporta automaticamente le spalle nella corretta posizione evitando posture cadenti Una volta che lo indossi sarai in piedi più dritto e subito la postura si rialinerà fino alla posizione ottimale Comfortis Posture è regolabile lo potrai adattare a una posizione confortevole Puoi indossarlo al lavoro, a casa, in macchina, alla guida di camion per lunghi viaggi ovunque tu voglia potrai indossarlo sotto i vestiti nessuno lo noterà Alcuni tutori sono pesanti e ingombranti e possono costare fino a 200 euro ma non dovrai sborsare tale somma per Comfortis Posture Ecco te la risposta ai problemi di postura e la migliore opportunità per alleviare i dolori alla schiena al collo e alle spalle una volta per tutte è arrivato il momento di acquistare Comfortis Posture Comfortis Posture Comfortis